Inizia bene il 2023 dell'Alba Verde che al pala Canizzaro con un netto 3-0 annienta la pallavolo Crotone, batte una grande squadra e comincia a sognare. Dopo la sconfitta ad Erice si era messo in dubbio il reale valore della formazione nissena e la prima risposta è arrivata contro il Crotone che si presentava da capolista al pala Canizzaro. È stata una vittoria netta arrivata al termine di una gara dove la maggior parte dei punti sono arrivati per delle belle giocate che hanno ammaliato il numerosissimo pubblico che sta dimostrando di credere in questa squadra ed è stato pienamente ripagato. Adesso trasferta insidiosa sabato 14 gennaio nel campo della capolista Zafferana. I risultati della dodicesima giornata del campionato di serie B2 Girone M. Funivia Etna Procori e Ricina 2-3 Stefanese Volley Region 0-3 Gioiosa Planet 3-0 Alba Verde pallavolo Crotone 3-0 Cuscatania Zafferana 0-3 Ardens Comiso Saracena 1-3 Fidelis Torretta Bricositi 3-0 La classifica Zafferana 32 punti Alba Verde 31 Pallavolo Crotone 29 Procori e Ricina 26 Gioiosa e Fidelis Torretta 23 Cuscatania 21 Funivia Etna 18 Volley Region e Saracena 15 Bricositi 9 Ardens Comiso 6 Stefanese 3-0 Chiude la Planet 1-0 Grazie per la visione di לעге